Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Da una vita che non ci vediamo, l'ultimo video è stato il tutorial delle punizioni che avete tanto apprezzato. Vi richiederete che cosa ci fa Riberoski su YouTube dopo mesi e mesi? Ebbene, visto che ormai le promozioni che FIFA ci regala sono sempre di più, le carte speciali sono sempre di più e le domande che mi fate live su Twitch sono di conseguenza sempre di più, visto che anche i miei compagnieri Solid, Daniel, hanno iniziato a portare questo tipo di video nei quali appunto vanno ad analizzare carta per carta le versioni speciali che escono, ho detto perché non farlo anche io in maniera tale che nella chat Twitch poi troverete il comando nel quale andiamo ad analizzare i giocatori. Quindi, visto che è uscito il footboard e già le vedete qui negli obiettivi di mercato, ho preparato tutte le carte che ci andremo per bene a sviscerare e nulla, direi di partire subito, come vedete avremo una lunga carrellata, non vi aspettate video mirabolanti, contagli, cose, sarà un fluscio di coscienza dove cercherò di parlare in maniera più lineare possibile e iniziamo subito quindi, abbiamo qui il buon Kai Havertz, che i più ricorderanno l'anno scorso per la sua versione Tots che era Unstoppable, anche compiù c'è il gameplay che appunto richiedeva giocatori alti, skill, piede debole, timed, tornati, colpi di testa, robe varie. E tornato in questa versione speciale, analizziamo subito che si tratta comunque di un giocatore che è alto, 1,88m, dal body type abbastanza ingombrante in game e abbastanza spesso come giocatore, piede sinistro ma la peculiarità appunto è che ha ricevuto 4 di skill e 5 di piede debole in questa sua versione. Andiamo ad analizzare le statistiche, vediamo che la velocità a scatto è sicuramente ottima, pecca però l'accelerazione. Questo cosa significa? Significa che sul primo scatto, sullo scatto bruciante, difficilmente lascerà sul posto i suoi avversari. Di conseguenza io andrei a scartare per questa carta già quelli che sono ruoli come l'esterno, il COS, il COD eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece le stats di tiro, abbiamo un ottimo posizionamento d'attacco, finalizzazione eccetera. Notiamo però un 82 in potenza tiro che secondo me è un qualcosa di limitante, un po' come accade con le varie versioni di Cruif, il baby e il mid. Questo rischia di andare a rovinare col 91 di finalizzazione tirando delle sacchette che difficilmente potranno impensierire il portiere. Poi per quanto riguarda il passaggio, niente da dire, nel reparto dribbling troviamo un'alta criticità perché non dobbiamo farci buttare fumo negli occhi da quell'85 di agilità, infatti il parametro 79 di equilibrio è un qualcosa che mi preoccupa tanto perché abbinato al body tap e alla sua altezza è chiaramente sinonimo di giocatore lento nel girarsi e che fa sì, io vado ad escludere per questa carta anche il ruolo di COC e di punta. Quindi dite, Riberoski, questo Avers quindi non può fare la punta, non può fare l'esterno, non può fare il COD, non può fare il CES, che cosa ce ne facciamo di questo Avers? Bravi, risposta esatta, non ce ne facciamo proprio niente, anche perché il costo comunque è abbastanza elevato, è difficilmente ibridabile se non con Icon, a meno che non vogliate utilizzarlo da prima punta fisica, tra virgolette, visto che avete uno stile di gioco magari del genere, io questo non lo vado a consigliare. Andiamo avanti, troviamo Lucas Hernandez, che ha ricevuto un upgrade a 5 stelle skill, che per un difensore centrale insomma non è che sia l'attributo più importante del pianeta Terra, alto 1,82, io questo lo sto usando su un account Road to Glory e vi posso dire che in game è bello spesso, anche lui, e vi andrò poi a spiegare il motivo di perché vi dico questa cosa più avanti. Infatti andando a vedere gli attributi vediamo che comunque per quanto riguarda la velocità, essendo un difensore centrale, ha una velocità di tutto rispetto che possiamo paragonare un po' a quella che ha Varane. Per quanto riguarda stats di passaggio abbiamo un ottimo corto, un problema in quello lungo, vabbè, ma ripeto, è sempre un difensore centrale, non è che chissà che cosa dobbiamo fare noi con un difensore centrale. Il problema che vado ad abbinare al body type di questo Hernandez riguarda l'agilità e l'equilibrio, perché sappiamo benissimo che quest'anno un parametro fondamentale è lo scivolamento con LT in difesa, quindi il tempo reggiamento, questo non lo fa nella maniera che io preferisco, almeno per quanto mi riguarda. E' chiaro che comunque non si tratta di attributi eccessivamente negativi, sia chiaro, certo, non sarà il 99 che ha per esempio un Virgil Toti, ma quella è una carta che ha un altro budget. Per quanto riguarda poi le statistiche difensive, abbiamo ovviamente ottime statistiche difensive, ottime statistiche di fisico, per cui io vi dico che questa carta qui, nonostante quella criticità che vi ho evidenziato, potrebbe valere la pena dargli una chance, per il motivo che è di un'ottima nazionalità, quindi potete affiancarlo, che ne so, a un Varan, ma soprattutto lo potete andare ad affiancare al bombo a Tengue, SBC Flashback, che è uscito un po' di tempo fa. Quindi per 200k, prezzo Xbox, ricordate che io vi parlo sempre di prezzi Xbox, io una chance a questo Hernandez la potrei anche dare. Andiamo avanti, troviamo Lozzano, il quale ha ricevuto un boost sia per quanto riguarda piede debole che skill, perché è da un po' che ormai il Mollozzano non era più 4-4, ma era 4-3 se non erro. Vediamo che è comunque un piccolo demonietto di 1,75. Beh, che dire, velocità assolutamente notevole. Per quanto riguarda statistiche di tiro, finalizzazione e potenza tiro per un esterno, alla fine ci possono stare, considerando anche la versione base di Lozzano, che appunto partiva da parametri piuttosto bassini. Passaggi così e così. Per quanto riguarda stats di dribbling, direi che ci siamo, anche a livello di agilità, equilibrio e reattività. Questo è un giocatore che, soprattutto messo sulla fascia, vi sguscia via in velocità, con anche un buon parametro di freddezza, ha anche 89 di resistenza, poi forza di aggressività appunto, non sono stats che competono al buon Lozzano, quindi tutto nella norma. Il mio consiglio su questa carta è di inserirlo, ovviamente, qualora si abbia una serie A, in quanto credo sia uno dei migliori esterni destri, se non il migliore esterno destro in serie A che sia uscito, oppure, qualora si abbiano questi 100-130k da buttare, tra virgolette, questo secondo me da super sub fa davvero una bella figura, perché vi entra, vi spacca in due la partita, approfittando soprattutto delle difese avversarie che magari sono stanche, se è messo sull'esterno. Abbiamo poi Joao Cancelo, 1,82m, 5,4m. Questo, come ho detto anche in live, si candida probabilmente ad essere il secondo miglior terzino di Premier, a mio avviso, dopo Arnold Totti, perché come potete vedere è agile, come potete vedere ha anche delle stats di passaggio che non sono male, a livello di agilità, equilibrio e reattività è messo bene, quindi per il motivo che vi dicevo dell'L2 in difesa non dovreste avere problemi soprattutto a fare le diagonali. Per quanto riguarda le statistiche difensive, hanno ricevuto un bel boost, perché sapete che Cancelo comunque nelle versioni base non ha questa grandissima difesa, perché anche nella realtà, diciamo, ha una propensione offensiva importante, ha 99 di resistenza e 82 di aggressività, quindi il tutto lo candida ad essere sicuramente uno dei terzini più interessanti in Premier League. Anche la nazionalità portoghese, insomma, gioca a suo favore, e magari potete linkare anche Quaresma, che è uscito qualche tempo fa, con un 4-5-1, insomma, potete svariare, secondo me questo Cancelo, anche perché non costa neanche tanto, è molto molto valido. Abbiamo poi questo Genet, anche questo è una hidden gem che ci portiamo dietro da FIFA 19, che è uscito e era qualcosa di incredibile, anche lui ha ricevuto queste 5 stelle skill, che da difensore centrale, ripeto, non ce ne facciamo veramente, veramente nulla, e 1-78 d'altezza, statistiche di velocità molto average nella norma, agilità ed equilibrio molto, 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 molto da rivedere, secondo me, certo, ricordiamoci comunque che parliamo di difensori, però bisogna anche vedere poi quello che sono il rendimento dei giocatori effettivamente in game, che ricordiamoci, comunque queste sono analisi fatti su dei numeri, poi sappiamo bene come delle carte che sono magari fortissime all'apparenza, una volta che le andate a provare si rivelano dei bidoni, viceversa carte che magari non vi sembrano niente di che, si rivelano tanta roba. Per quanto riguarda statistiche difensive, beh, nulla da dire, peccato per la resistenza, beh, ma come dico sempre, la resistenza sui difensori centrali non è un fattore che va a incidere più di tanto. Per il prezzo che ha questo, un 60k, onestamente io a un Genet preferisco sempre un Varan base, insomma, che si difende alla grande, quindi io questo Genet non lo consiglio più di tanto. Andiamo avanti e troviamo Guerreiro del Borussia Dortmund, 1,70m, piede sinistro, 4,5m. Questo qui ha una carta interessante. Sicuramente l'unica cosa che mi lascia tanto perplesso di questo Guerreiro è la velocità scatto 79 ad abbinata a una accelerazione 93, il che va a rendere il parametro di velocità un po' ambiguo, perché secondo me questo ha un primo scatto molto bruciante, ma dopodiché sul lungo si va a far recuperare anche abbastanza facilmente da quelli che sono i difensori avversari. Quindi, quello che è il mio consiglio è sicuramente di andarla ad utilizzare qualora abbiate una Bundesliga competitiva che tanto vi piacciono, che è difficile andare ad upgradare. questo sicuramente può essere un upgrade dai vari command, eccetera, eccetera, anche perché ha delle buone statistiche di tiro, un'ottima statistica sia di passaggio corto che di lungo, è agilissimo, 94, 93, 87 parametri di agilità, equilibrio e reattività, ha anche una buona resistenza e diciamo che con un po' di fantasia questo si potrebbe utilizzare anche da mezzala in un rumbo, visto che comunque le statistiche difensive non sono male, con intercettazione 80, lettura difensiva 73 e contrasto in piedi 74, soprattutto se avete uno stile di difesa molto manuale che vi seleziona, vi selezionate giocatori in maniera forse nata, questo magari potrebbe, potrebbe rendervi, altrimenti, anche qui, visto che lì non si tratta di un investimento esorbitante, potrebbe anche andarvi a fare il super sub, anche se le opzioni da super sub ce ne sono tante, ci sono i vari pick che avrete trovato, c'è l'immortale Kent, eccetera, 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 bene ragazzi, perdonatemi il taglio, ma purtroppo era saltata la connessione, quindi mi aveva sbattuto fuori dai server, piccoli inconvenienti, grazie Vodafone, peace, bene, dicevo, eravamo arrivati a uno dei giocatori che più gradisco in assoluto di questo gruppone, ovvero Griezmann, il quale, come potete ben vedere, ha ricevuto addirittura un boost di due stelle per quanto riguarda il piede debole e vediamo che ha un'altezza di 1,76 m, quindi questo lo candida ad avere un body type di quelli che io amo, ossia di quei giocatori che si riescono a girare nello stretto e a tirare destro-sinistro come meglio preferiscono. Parametro di velocità di Griezmann che riceve finalmente un boost dopo che quest'anno Griezmann non si sa per quale motivo aveva visto un downgrade a livello incredibile della sua velocità. statistiche di tiro che sono assolutamente lodevoli una finalizzazione ottima una buona potenza tiro anche per quanto riguarda i passaggi abbiamo un ottimo corto e un ottimo lungo agilità, equilibrio e reattività sono top un'ottima resistenza ha anche una buona elevazione che non guasta e anche un buon livello di aggressività. Per me questo è assolutamente un top player che infatti voglio provare e può fare tranquillamente il COC il CD il COS e la punta secondo me il ruolo proprio ideale per Griezmann è la punta in un attacco a due quindi soprattutto con uno stile di gioco improntato al possesso palla Griezmann riceve la palla drag, back si gira a destro-sinistro poi abbiamo anche il tiro a giro che è una cosa che è ancora più importante perché il finesse quest'anno conta tanto se il giocatore ha questa arma in più quindi per me è anche giustificato il prezzo che comunque non è alto perché ad esempio su Xbox attualmente costa un milioncino e cento un milioncino e due quindi è assolutamente un prezzo abbordabilissimo per quella che è una delle carte sicuramente più valide di questo footbird dei Team 1 andando avanti andiamo poi a trovare Hazard il quale abbiamo un aumento nelle stile skill quindi abbiamo un 5-4 per lui altezza 1,75 parametri di velocità veramente notevoli ottima anche la finalizzazione della potenza tiro e in generale le statistiche del tiro abbiamo anche un ottimo passaggio sia corto che lungo e anche il resto dei parametri sono ok agilità, equilibrio e reattività sensazionali che abbinate al suo body type lo rendono anche qui un giocatore molto molto versatile ottimo parametro di resistenza questo qui io ce lo vedo bene sia per quanto riguarda ruoli esterni quindi esterno destro sinistro COD, COS insomma ruoli del genere ovviamente anche il COC centrale questo può fare anche anche la punta perché a girarsi si gira quindi non è uno di quei giocatori che io definisco tronchi l'unico problema tra virgolette è il 4 piede debole non il 5 che magari sul sinistro gli da un po' di limitazioni ma comunque 4 stelle di piede debole non sono 3 non sono 2 insomma quindi questo qui anche esso si candida ad essere una delle carte migliori di questo di questo gruppone di footbird il prezzo forse è un tantinello alto perché un milione e 7 per questo hazard considerando comunque che a poco più magari ti puoi portare a casa un Cruif che è anche più ibridabile eccetera eccetera io aspetterei che magari il prezzo si assestasse perché comunque capite bene che queste carte sono stra hypate al momento quindi sicuramente questo andrà a calare e magari lì sarà il momento che potete andare a fare un pensierino e acquistarlo andiamo avanti e troviamo il Tuk Correa della Lazio che vede un boost per quanto riguarda le stelle skill 1m88 e vi dico 1m88 avete già capito dove voglio andare a parare perché parametri di accelerazione che sono assolutamente validi per quanto riguarda finalizzazione e potenza tiro anche qui troviamo degli ottimi attributi per quanto riguarda statistiche di passaggio abbiamo un ottimo corto e un lungo discreto e arriviamo nel dribbling dove avevate immaginato che vi avrei fatto notare una criticità difatti troviamo 92 di agilità ottimo che va ad abbinarsi a un 74 di equilibrio questo è sintomo palese di giocatore tronco questo se lo prendete con la gru forse riesce a girarsi forse oltre che anche 80 di freddezza per una carta del genere super bustata mi puzza un po' quindi il giudizio che do su Correa e che può fare magari l'esterno volendo è DS COD COS soprattutto se avete appunto una serie A ma poco altro sicuramente non il COC sicuramente non la punta però visto che comunque non è che lo andate a pagare milioni ma lo pagate su un 100k volendo il Tuku Correa per i ruoli che vi ho menzionato potrebbe anche far parte del vostro team arriviamo a Munya In il quale innanzitutto vorrei capire che trasformazione ha fatto rispetto a quella che è la sua carta base perché sembra totalmente un altro un altro giocatore sembra uscito da da Troio o da 300 comunque riceve un boost per quanto riguarda il piede debole 1,70m di giocatorino quindi non altissimo una buona statistica per quanto riguarda la velocità posizionamento di attacco cose riguardanti al tiro insomma poco ci interessano perché questo è vero che sulla carta parte COC ma questo il COC lo potrebbe anche fare ma ha 77m di passaggio lungo quindi non proprio una statistica incredibile per quanto riguarda agilità ed equilibrio ci siamo io vi dico che questo Munya In non è il mio giocatore dei sogni ce lo vedo sì da COC in una liga che magari volete andare a upgradeare in qualche modo visto che comunque non è che abbia questo prezzo così alto anche Munya In però non è un giocatore sul quale andrei a fare a fare follia insomma perché parliamo di un giocatore che comunque è molto molto average trovate di meglio anche magari tra icon a basso costo o tra giocatori if ma anche base insomma si trova si trova meglio andiamo avanti ritorniamo ad Avers perché dobbiamo cambiare pagina e andiamo negli ultimi abbiamo Gaetan che deduco anche lui abbia ricevuto un boost per quanto riguarda il piede debole 1,73m di giocatorino quindi anche lui un body type piccino parametri di velocità che sono ok finalizzazione un po' bassina abbinata anche ad una potenza di tiro che è veramente così e così passaggio corto ci siamo sul lungo meno agilità equilibrio reattività anche qui ci siamo però questo Gaetan io non non saprei onestamente dove andarlo ad inserire non mi sembra né carne né pesce certo magari lo potete piazzare da C o C sicuramente potete anche dargli un tentativo da punta magari in un'attacca 2 perché a girarsi si gira e c'ha il 5 piede debole però a me sto Gaetan per sto Gaetan non andate a prendere sempre un un bei header no? poi è della della Ligan si magari vi può linkare che voglio dirvi un Bappé un Neymar quindi io non mi sento di scartarlo però questa mi puzza di quelle carte che sono eccessivamente boostate solo per quanto riguarda le stats ma poi in game fanno fatica a rendere per quello che dovrebbero un po' come un po' come Muniain andiamo avanti e troviamo un'altra carta pazzesca all'apparenza e già vi inizio a dire perché all'apparenza vi chiederete lo scopriremo insieme perché questo Rashford riceve la quinta stella piede debole e divene un 5-5 per un 86 di giocatore velocità non ve la sto neanche a commentare finalizzazione e potenza tiro ci siamo per quanto riguarda i passaggi questo sta un po' rovinato perché 82 di corto è pochino 69 di lungo è grave agilità 92 e arriviamo ad 80 di equilibrio 80 di equilibrio significa che il nostro amico Marcus anche qui ha bisogno di una gru e del teletrasporto per potersi girare quindi vabbè poi abbiamo 80 di fedezza che anche non è tantissimo eh vabbè 93 invece poi di resistenza eccetera eccetera parametri di fisico che sono buoni quindi questo Rashford il giudizio che io gli vado a dare è che assolutamente da COC ve lo potete scordare assolutamente anche da punta per me ve lo potete scordare perché questo è un tronco visto che anche un giocatore bello spesso in game è alto è massiccio va un po' alla drogba come body type questo qui fa alla perfezione COD, COS, D ed S come mi ha confermato anche il buon Daniel che lo ha comprato e lo stava provando e lo stava provando proprio in quei ruoli anche se ripeto la statistica di passaggio mi lascia comunque un po' perplesso per una carta che costa un milione e sette circa onestamente mi sarei aspettato un po' di più quindi Rashford per me ha provato però nei ruoli che vi ho menzionato e solamente nel caso in cui il prezzo dovesse andare un po' a scendere perché con un milione e sette voi per fare l'esterno comprate tranquillamente manettoti o altre carte che sono molto più valide di Rashford arriviamo ad un'altra hidden gem pazzesca che è San Maximen che abbiamo imparato a scoprire sin da inizio anno con la sua carta oro che era baggatissima poi il Mothman e l'If dominano le scene della VL da qualche settimana questo riceve la quinta stella piede debole è un giocatorino di 1,73 con parametri di velocità che sono assolutamente eccezionali una finalizzazione non al top abbinato però a un'ottima potenza tiro i passaggi sia corto che lungo sono veramente buoni agilità 99 equilibrio 94 reattività 85 lo rendono sicuramente un giocatore anche molto molto agile nello stretto anche un'ottima freddezza un'ottima resistenza quindi questo vi arriva tranquillamente pure al 120 questo qui è molto molto consigliato per quanto mi riguarda credo sia l'esterno destro più forte della Premier League se non mi sfuggono toti in questo momento strani no credo sia assolutamente l'esterno destro più forte della Premier League secondo me vale anche il prezzo anche se credo che scenderà un pelo secondo me su Xbox si assesserà sui 7800 ma assolutamente questa qui è una carta che va provata va testata e probabilmente va anche utilizzata se ne avete modo anche perché ha un'ottima nazionalità è facilmente ibridabile e può darvi tante tante soddisfazioni secondo me quindi Maximen approvatissimo secondo me arriviamo probabilmente al giocatore che è assolutamente fuori classe indiscusso di questo team ovvero Bappé che riceve una quinta stella piede debole che lo rendo veramente invincibile praticamente perché andiamo a vedere che la velocità lasciamo perdere per quanto riguarda statistiche di tiro finalizzazione altissima abbinata anche a un'ottima potenza tiro passaggio corto top in lungo meno agilità equilibrio reattività parametri assolutamente lodevoli anche qui parametri fisici anche qui ci siamo questo Mbappé è un po' il mio sogno tra virgolette perché Mbappé è una carta che mi è sempre piaciuta tanto anche per come appunto si girava in game perché mi piacciono tanto questi giocatorini agilotti e la quinta piede debole regala a Mbappé finalmente quell'impredibilità che l'aveva sempre andato invece a penalizzare con quel 4 perché Mbappé col sinistro lo sappiamo tutti ma anche il Toti va a segnare adesso il problema di Stombappé è uno perché va praticamente a costare quanto il Toti e voi mi direte Liberoschi ma vale la pena spendere i soldi quando io mi posso prendere il Toti io vi devo dire la verità e vi dico dipende da voi dipende da voi perché perché questo Mbappé se voi dovete far fare l'attt per me vale la candela il gioco come si sol dire cioè se fa l'attt per me questo è più imprevedibile del Toti quindi secondo me con la quinta stella piede debole può andare a giustificare il prezzo oltre che comunque secondo me Stombappé adesso è un po' hypato come tutte ve l'ho detto quindi un pochino scenderà se invece dovete andare a fargli fare l'esterno Stombappé dove la quinta stella piede debole non è che la sentirete più di tanto perché una volta che quello sta là sull'esterno si magari qualche tiro ve lo fa ma non avete bisogno di quell'imprevedibilità che invece hanno i giocatori d'aria di rigore quindi a quel punto per lo stesso prezzo ovviamente vi portate a casa il Toti seguite il mio ragionamento quindi comunque Mbappé ovviamente non ha bisogno di altri commenti super 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 consigliato l'unico ruolo che non gli farei fare è il CEC appunto perché il passaggio lungo è un po' così e così arriviamo a un altro mostro sacro di questo gruppo ed è anche probabilmente l'ultimo dei footbird dei scambiabili che andiamo ad analizzare che è Sissoko Sissoko che anche qui riceve un boost di piede debole alto alto 1.87 il solito chip viera come l'abbiamo definito quest'anno anche se vi dico non è tutto oro quello che luccica perché per quanto riguarda la statistica di velocità abbiamo un'ottima velocità abbinata ad una scarsa accelerazione quindi questo sullo scatto bruciante non c'è c'è magari un po' più sul lungo ma Sissoko sul lungo non è che si deveva fare queste grandi cavalcate per quanto riguarda passaggi ha ricevuto un importante upgrade sia di lungo che di corto la freddezza per una carta che voi andate a pagare tanto 80 e pochino oltre che 68 di agilità e 62 di equilibrio per il discorso che vi facevo prima di quest'anno del temporeggiare con L2 lo vanno a penalizzare parecchio questo Sissoko di conseguenza vabbè poi statistiche difensive e di fisico insomma eccezionali ma io onestamente per il prezzo di questo Sissoko andrei a preferire sempre un Viera Baby o aspetterei un pelino e andrei a puntare magari un De Jong Toti un Kante Toti eccetera eccetera spesso e volentieri quando escono queste carte veniamo traditi dall'hype di volercele portare a casa di utilizzarle a tutti i costi ma secondo me questo Sissoko può anche rimanere insomma dov'è perché comunque stiamo parlando di un di una carta che si è molto boostata ma è sempre è sempre con delle stats average in mio in mio modesto parere quindi si lo potete andare a considerare ma non vi dimenticate che comunque con poco in più vi potete portare a casa delle carte che sono sicuramente superiori quindi per quanto riguarda il comparto footbird scambiabile abbiamo finito adesso ci rimane da analizzare il buon mesutto zil che è invece una sbc questo qui riceve upgrade per quanto riguarda il piede debole un metro e ottanta di giocatore questo qui io mi sento di sconsigliarvelo caldamente e vi spiego perché perché la velocità vabbè così è così per quanto riguarda statistiche di tiro ci potrebbero anche stare passaggio ci sta agilità ok discreta l'equilibrio ragazzi questo qui non si gira solito discorso in più questo qui io onestamente da c o c proprio per questo discorso non ce lo vedo quindi dite voi vabbè allora lo usiamo mezzala lo usiamo cc e no perché come lo usi cc uno con 28 di intercettazione 28 di lettura difensiva 18 di contrasto in piedi e scivolata 22 questo la difesa proprio non sa neanche che cos'è quindi per me una carta del genere che voi andate a pagare circa sui 250k non scambiabile a questo punto del gioco è assolutamente da evitare in maniera pestilenziale andiamo avanti e ci rimangono i due che invece sono negli obiettivi e io per queste carte che sono negli obiettivi faccio solitamente un discorso molto semplice Bella Rabbi l'ho analizzato io qui non vi posso far vedere le statistiche nel dettaglio perché non ce lo permette e vi posso dire che l'unico problema enorme di sto Bella Rabbi mi pare fosse la resistenza ma è una carta che voi vi portate a casa facendo due sciocchezze di sfide quindi seppure sono in rivals ok tra l'altro le vedevo non sono neanche troppo difficili perché non sbloccarla se la volete provare stesso discorso vale con Paketà Paketà addirittura le sfide che noi dobbiamo andare a fare sono i squad battles quindi veramente vi richiede giusto la noia di dovervi andare a giocare delle squad battles che una volta fatte però vi ritrovate con una carta 86 che pure se magari non vi piace vi potete andare a buttare in una SBC quindi per quanto riguarda questi due che sono appunto gratis io vi dico sì fateli perché no fanno sempre comodo da avere nel club quindi raga abbiamo finito abbiamo analizzato tutto quanto il comparto footbird da quelli scambiabili dagli obiettivi alle SBC sono tornato tra virgolette su youtube troverete questi contenuti diciamo così non so se ho intenzione anche poi di andare a caricare che ne so estratti riguardanti i premi della VL delle Rivals o magari qualche tattica qualche istruzione relativa a qualche VL è andata particolarmente bene però sicuramente questo format relativo alle carte e all'analisi dei giocatori continuerà e spero che vi possa tornare utile quindi ragazzi io vi ringrazio per la visione vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video peace